I PM della DDA di Reggio Calabria hanno invocato pene pesanti per i vertici affiliati della Cosca Nasone Gaietti di Scilla, cellula criminale coinvolta nell'operazione Lampetra. 18 le richieste di condanna per complessivi 131 anni di carcere. Le pene più severe sono state chieste per Angelo Carina, 16 anni e 8 mesi di reclusione, Antonio Alvaro, 12 anni, Francesco Caracciolo, 12 anni, Silvio Emilio Cimarosa, 12 anni e Salvatore Gentilesca, 12 anni. Fondamentale il contributo fornito dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Carmelo Cimarosa Scillese Doc e Intranio alle cosche che scorazzavano nella cittadina, indicata da chiunque come la perla del tirreno. Anche lui fu coinvolto nell'operazione Lampetra, il blitz, lo ricordiamo, dell'arma del luglio 2021, l'area a carico di 19 persone, 15, lo ricordiamo, finirono in carcere e 4 ai domiciliari. Successivamente l'operazione portò in giudizio in totale 25 persone. Due agli scenari di accusa, come ricostruito dai carabinieri del reparto operativo del Comando Provinciale di Raggio, traffici e affari con lo spaccio in grande stile e il racket delle estorsioni Scilla.